da Ballando con le stelle, Tina Hoffman, la maestra Tina Hoffman. Facciamo un applauso calorosissimo e li accogliamo qui con noi. Loro sono i professionisti della danza sportiva e come primo ballo presenteranno un cia cia cia. Facciamo un applauso calorosissimo e come primo ballo presenteranno un cia cia cia. Facciamo un applauso calorosissimo e come primo ballo presenteranno un cia cia cia. Facciamo un applauso calorosissimo e come primo ballo presenteranno un cia cia cia. Facciamo un applauso energico e comecei um applausoikat material. Facciamo un applauso energico e come dunque belle. Facciamo un applauso energico e come primo ballo temperatura 강ali carretera. Facciamo un applauso fuego pero۔ Facciamo un applauso energico e come father carucompino paranoid Shepherd pods glicillerati. Grazie a tutti. Grazie. Tina Hoffman, Fabio Modiga, i professionisti della danza sportiva. Vieni, facciamo riprendere il loro fiato. Professionisti, sempre finalisti ai campionati italiani e vice campioni del mondo della disciplina Sud America Show Dance. Facciamo un applauso calorosissimo. Facciamoci sentire un po'. Di qua, sono quattro e un l'anno più di... Facciamo... Vediamo voi. Più forte. Vediamo loro. Non male, non male, dai. Sono bravi, eh? Gli chiediamo da quanto... L'età nombro, da quanto ballano? Quanti anni è che balli? Aspetta, fammi calcolare. 21. 21. Una passeggiata. Fabio? Più o meno lo stesso. Sì, ma non è l'età, è 21 anni che fanno questa disciplina. Quindi una fortissima dedizione, attaccamento e una preparazione eccellente. Bene, termineranno e chiuderanno la loro performance e la presenza della Federazione Italiana di Danza Sportiva con una bellissima rumba. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a Michele Buonarrivo che in Genova è in festa per quattro giorni perché mica ha finito Michele domani è qua? Michele a che ora domani mattina? Alle? Alle 9 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti